ciao a tutti e il giorno è finalmente arrivato giorno di unboxing dei tamagotchi mitz ne ho ordinati due sono appena arrivati sono arrivati il giorno dopo il mochi maruzzo per cui sta arrivando tutto in questo periodo anche se ho ordinato ci ho fatto gli ultimi ordini che avete visto gli ultimi unboxing sono frutto di quattro mesi di ordini che sono arrivati tutti praticamente nello stesso periodo nel giro di una settimana circa per cui aiuto quante novità vabbè comunque senza tentennare oltre io direi che apriamo questo pacco e ci vediamo questi tamagotchi mitz tamagotchi mitz per i quali diciamo c'è una specie di spaccatura all'interno della community di amanti dei tamagotchi perché tanti dicono sono dei mix sotto falsa spoglia eccetera eccetera però non di meno sono interessanti perché appunto hanno la possibilità di connettersi tramite app ad altri giocatori cosa che io al momento non farò perché a parte che ho android non so nemmeno se l'app è disponibile per android e poi bisogna fare salti mortali per installarla perché appunto funziona tecnicamente solo in giappone per cui bisogna fare un po di trucchetti per poterla installare e soprattutto utilizzare per cui intanto non me ne preoccupo mi preoccupo solo di ciò che offre il tamagotchi in sé e per sé questo non vuol dire che in futuro non utilizzerò mai l'app comunque adesso occupiamoci dei tama che sono qua dentro ah no scusate scusate i canti e tutto il resto però mi aspettavo così tanto e quindi sono felice quindi canto e già si intravedono i personaggini delle due versioni si ho voluto prenderle entrambe non so cosa cambia a parte una destinazione e due personaggi sinceramente poi per il resto per quello che ne so potrebbero essere identiche compresi i giochi cosa che mi fa un po' girare le scatole che su due versioni diverse ci siano gli stessi identici giochi perché è proprio la prima cosa che mi stufa i giochi sono la prima cosa in assoluto che guardo di un tamagotchi se mi piacciono meglio anche perché è l'unico modo veloce di guadagnare gocci points se mi piacciono bene se non mi piacciono mi stufa abbastanza presto e comunque diciamo che sì poi magari se mi allontano per quel tamagotchi per un periodo diciamo che non cioè dopo sento la mancanza in ogni caso e quindi mi godo una volta riaccesi i giochi riacceso scusate i giochi ma dopo un po' appunto mi torna a stufarmi ecco purtroppo è il mio rapporto bluetooth è il mio rapporto oscuro con i tamagotchi ecco il mio rapporto oscuro ma cosa sto dicendo ok allora le scatole sono identiche a come grandezza intendo a quelle anche dei mix dei for you eccetera eccetera e si quale scritte sono sempre nelle stesse cioè digital friends of the world poi qua va beh vi fa vedere che potete connettervi con la station che noi in italia non abbiamo c'è solo in giappone con il il tama e con il il dispositivo bluetooth telefono o quello che è o chi per lui insomma bene quale apro prima ma li apriamo tutti due ovvio cosa sto dicendo anch'io che domande mi faccio ho tolto il nastro adesivo per conto mio se no guardando attraverso il telefono non ce l'avrei mai fatta comunque apriamo il fairy e vediamo cosa c'è beh prima di tutto ci sono le stesse identiche cose per cui manuale rigorosamente in giapponese perché non sia mai che chi non è giapponese possa leggere oh santo cielo me l'ho dimenticata che anche qua c'erano tonnellate di scotch me lo dimentico sempre praticamente e anche questo l'ho fatto off camera cioè tirar via lo scotch perché se no non ce l'avrei mai potuta fare ma allora apriamo lì entrambi wow che scintillante bellissimo bello mi piace anche come rosa l'ho preso rosa non so perché perché era il colore che mi ispirava di più tra i fairy tale sì vabbè tra i fairy era quello che mi ispirava di più come come e dal vivo è bello rende bene mi piace moltissimo il faceplate molto molto bello vediamo il magical molto carino anche questo l'unica cosa si hanno entrambi l'arcobaleno sotto bene solo che il fairy ha i cuoricini e il magical ha le stelline molto bene direi che gli accendiamo entrambi vediamo dietro ma non dice nulla di che nulla di interessante beh magari per i collezionisti sì ma per me no ecco se trovo il mio stuzzicadenti oh perfetto strumenti di altra di alta precisione per aprire itama ok le molle sono proprio sopra sopra non che a noi interessi che bel suono adoro bene accendiamo anche lui al momento voglio accenderli entrambi poi mi sa che uno lo spengo va bene allora aspettiamo un bello lo sfondo nuovo intanto comincio a inserire la data qua no anzi aspetto anche questo così lo facciamo in contemporanea è un po diverso il suono un po più acuto oggi è il 29 e sono le non ne ho idea guardo su un altro tema ok allora imposto le 14 e 10 anche se in realtà sono le 15 e 10 no appunto sono andata troppo avanti classico allora abbiamo detto 14 per cui 2 e 10 compleanno ma il 13 ho sbagliato su entrambi contemporaneamente è pazzesco no non avevo sbagliato qua vabbè hanno una luminosità leggermente diversa questo è lo schermo scusate mi sono accorta adesso che ero decentrata questo ha uno schermo leggermente più giallognolo come luce questo è più luminoso potrebbe sembrare un effetto di luce ma in realtà è proprio così lo si vede anche attraverso il telefono vabbè comunque nome ci metterò secoli a inserirlo differenziamoli non so perché ho scelto questi due simboli non chiedetemelo ma qualsiasi cosa andrà bene ok sì confermiamo il tutto aspetta un secondo e certo aspettiamo cos'altro possiamo fare e guardiamo lo schiudersi delle uova poi vabbè so che il menù per la maggior parte è identico al mix e quindi non c'è molto da vedere però le guide arriveranno arriveranno soprattutto per quanto riguarda le destinazioni magari faccio una guida generale un po veloce sul menù e comunque mi piace molto lo sfondo bello mi piace mi piace e anche le uova sono cambiate sono carinissime però mi aspettavo due uova diverse come come colore come stile ripeto sono identici ai mix tranne per due piccoli particolari proprio cioè vabbè la possibilità di avere dei gemelli anziché un figlio unico dei pet che a loro volta fanno dei mix e un altro paio di cosucce minime diciamo vabbè le destinazioni cambiano tutte sono tutte nuove tutte diverse ecco lì un maschio e una femmina sì carini diamogli da mangiare dai cibi e il resto cambia cambiano anzi mi piace questa tazza è una tazza con boh non si capisce che cosa comunque guardateli che teneri sono troppo carini più che un verde questo è un color menta cioè quella cosa metà tra il il verde l'azzurro il che non mi mi dispiace cioè come accoppiamento di colori mi piace tanto e sinceramente non ho quale di spegnerne uno però c'è troppa roba che sta andando ho il mochimaruzzo il cupette qualcosa devo spegnere però già tenerne due è difficile se poi ne tengo tre non ho il coraggio di spegnere nulla perché è tutto troppo nuovo non ce la farò mai vabbè vedo come va se poi non riesco a gestirli ne spengo qualcuno poi basta per il resto diciamo che dovrebbe essere tutto praticamente uguale perché non ha la papera? ah sì ce l'ho sto cercando di vedere se ci sono differenze ma non ne vedo no perché è tristi? no 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 adesso giochiamo subito vabbè destinazione e porta non sono disponibili destinazione no piano dream porta oh l'orsacchiotto porta e destinazione per cui città e posti fuori città non sono disponibili come nei mix abbiamo un solo gioco disponibile vabbè tutto nella norma insomma esattamente come nei mix per cui qua la barca non possiamo prenderla non possiamo uscire di casa però vabbè sì anche come animazione del gioco col giocattolo per bebè è identico però mi piace che non sia più il sonaglio bensì un orsacchiotto qualcosa di un po' più personalizzato qua cosa c'è? niente prima generazione un maschio e una femmina che bello sono troppo contenta un saluto velocissimo perché ho la memoria del telefono pieno dunque arriveranno presto le guide arriverà tutto quanto ne abbiamo da fare per i prossimi mesi per cui comunque per questo unboxing è tutto se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace commentate che mi fa sempre molto piacere iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire tutte le guide che escono puntualmente sui tamagotchi e gli altri virtual pet è piaciuto è piaciuto Grazie.